Il progetto JuizLab nasce con l'intento di promuovere una collaborazione fra due laboratori territoriali piemontesi, i Laboratori Biellesi per l'Occupabilità, situati nella città di Biella, ed EcoAgriLab, un laboratorio territoriale per l'occupabilità che raccoglie istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio dell'Albese, Braidese e Morregalese. I due laboratori lavorano entrambe nel campo dell'agroalimentare, ma hanno competenze diverse. I Laboratori Biellesi per l'Occupabilità, attraverso i due indirizzi di studio Agrario e Alberghiero dell'Istituto di Istruzione Superiore Gaia Eulenti, lavorano sulla filiera agroalimentare dal campo alla tavola, dallo studio e dalla raccolta delle materie prime alla loro trasformazione in cucina. EcoAgriLab, grazie alla partecipazione dell'Istituto Professionale Statale Velsomucci di Bra, con i corsi di pastecceria e di grafica, si occupa dell'analisi delle materie prime e dei prodotti trasformati per renderli conformi agli standard richiesti per la commercializzazione e della loro promozione attraverso la creazione di una veste grafica. Il progetto JuiceLab ha quindi l'obiettivo di unire queste competenze al fine di produrre materiale video utilizzabile dagli istituti aderenti ai due laboratori territoriali nella didattica agli studenti e nei corsi di formazione. I video di JuiceLab illustrano il processo produttivo e di analisi generato dal lavoro complementare dei due laboratori territoriali nella realizzazione di un prodotto alimentare, un succo di mela. I laboratori bielesi per l'occupabilità realizzeranno il succo all'interno del loro laboratorio di cucina utilizzando le mele dell'azienda agraria e lo confezioneranno in contenitori ermetici. EcoAgriLab, nel laboratorio di analisi chimico-biologica dei prodotti agroalimentari, svolgerà le analisi chimiche del succo e ne realizzerà una veste grafica attraverso la creazione di un'etichetta. EcoAgriLab, nel laboratorio di analisi chimica dei prodotti agroalimentari, svolgerà le analisi chimiche del